Buongiorno a tutti, questo è Sirio da Spothom e oggi vi mostrerò un appartamento molto bello di 3 luoghi per share in Largo Luigi Antonelli. Questo è il distrito di San Paolo, siamo molto bene connessi al centro di città. La stazione di San Paolo è meno di 10 minuti di camminare dall'appartamento. Questa è l'entrante porta e possiamo controllare l'interno numero uno. È un molto grande luogo con due due basi, due deschi. Abbiamo un grande luogo qui, un bambino, un bambino, un altro e il condizionato unit. Questo è il bambino, con una buona buona, con una buona buona. E questo è il secondo luogo, è un grande luogo. Qui abbiamo trovato due basi, due due basi, ho darato una bo��a per cucinare, due basi, un bloco, un luogo chia två, un altro luogo, una buona evaluation ed, un 24- vind, un bellissenschaftone, un luogo co con una buona storage, un luogo, uno schενale e un cuore wifi. È un luogo di biciclore. Apartment come una area common, qui abbiamo un sacco, lavabo, 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 Oven, big fridge, television And this is bathroom number one We have a shower, washing machine, sink, toilet And another tiny sink over there And this is bathroom number two We have bidet, toilet, a very large shower and a sink Ok, if you have other questions, please visit the SpotOn website I hope you will have a nice idea Thank you very much, bye bye